I cittadini che vivono la malattia mentale avrebbero diritto ad un sistema di cure in linea con le raccomandazioni degli standard internazionali, ma secondo l'osservatorio salute mentale in Abruzzo questo non accade. La situazione già difficile sta diventando insostenibile a causa della pandemia. Il carico dei familiari alle prese con gli orari ridotti dei centri di salute mentale e con il drastico calo delle risorse è al limite e pensare, dicono, che vorremmo solo che i nostri congiunti fossero più autonomi e offrire loro più chance di integrazione. Stanchi di aspettare risposte che non arrivano, oggi le associazioni e i sindacati hanno allestito un presidio di protesta davanti all'assessorato alla sanità della regione Abruzzo a Pescara. No, così non va perché dopo la pandemia, durante questa pandemia, la situazione si è più aggravata e in quanto oltre a situazioni cronicizzate in qualche modo di malattia mentale c'è l'emergere presso gli adolescenti e i giovani adulti di situazioni psicotiche, che non è l'autismo, è un'altra cosa, situazioni psicotiche importanti, perché le risorse per i centri di salute mentale pubblici vanno diminuendo e questo ci preoccupa molto, perché noi dovremmo partecipare attraverso una consulta regionale stabilita dal piano sanitario regionale 2008-2010 alla programmazione degli interventi sulla salute mentale, ma non se ne vede proprio l'idea. Quindi noi siamo venuti qua per farci vedere, ecco, quindi non abbiamo altri scopi. Farci vedere attraverso voi e vi ringraziamo dall'opinione pubblica. Siamo qua e stiamo a dire che vogliamo dignità per le persone che soffrono di una malattia mentale e vogliamo più risorse per la malattia mentale. Queste sono le due grandi richieste. Noi siamo familiari che hanno fondato o comunque coordinano un'associazione di volontariato, cittadinanza attiva e i sindacati confederali che ci sostengono e che oggi sono qui presenti e li ringraziamo. Noi ci siamo incontrati con l'assessore Verì a gennaio 2020. Poi c'è stato il lockdown, quindi noi per un annetto abbiamo pazientato, perché ovviamente siamo responsabili, abbiamo capito che ci fossero situazioni più urgenti. E quindi ce la siamo cavati da soli in qualche modo, con grandi difficoltà ma ce la siamo cavati. Insieme ai centri pubblici io insisto perché loro sono prioritari. Però adesso siamo arrivati a dicembre 2021, è passato un altro anno.